Una vittoria che paradossalmente può aumentare rabbia e rimpianti per quello che poteva essere e non è stato. Sì, assolutamente sì. Insomma, l'avevo detto anche sabato a Cosenza che comunque fosse andata questa era e era una salvezza che questa squadra poteva assolutamente centrare. Quindi nasce il rammarico per quello che soprattutto dopo il Covid non siamo riusciti a fare e quindi aumentano ancora di più i nostri pensieri negativi. Però la situazione è questa e continuiamo a lottare. Grazie. 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 il centro non mi vede però mi sente io le volevo fare una domanda a prescindere insomma da quello che il presente alla fine purtroppo il testino sia anche abbastanza scritto, io le volevo guardare un po' più avanti, vorrei guardare oltre, le chiedo ma lei il prossimo anno resterebbe su questa panchina se ha iniziato già a parlare di un eventuale futuro grazie no sinceramente non ho parlato con nessuno ma in questo momento non mi interessa neanche parlare, mi interessa finire il campionato cercando di fare il massimo cercando di veramente fare il miracolo ma purtroppo non dipende da noi perché abbiamo sprecato diverse chance e quindi il mio rammarico è troppo grande per pensare ad altro rimango fortemente concentrato su queste ultime due partite sapendo che magari no magari che potevo fare di più soprattutto nel post covid alzare questa tensione nervosa che si è vista oggi e questo certamente è un pensiero che mi tormenta si vede che insomma che non sono stato come ho detto in precedenza attaccato mentalmente ai giocatori per fargli dar tutto quello che avevano soprattutto a libero nervoso e quindi il futuro in questo momento veramente è l'ultimo dei miei pensieri lei rimarrebbe lei rimarrebbe ma a prescindere insomma dalla tua analisi condivisibile Pescara è una piazza fantastica quindi in assoluto è un piacere lavorarci è un piacere centrare degli obiettivi importanti ma ripeto quanto ho detto prima in questo momento la priorità è un'altra anche se dovesse scusi mister mettere il timbro su questa retrocessione non è colpa sua però purtroppo alla fine ci sarebbe scritto il suo nome questa è la domanda guardate io sono uno abituato a lavorare io non gestisco non sono capace a gestire io alleno mi piace allenare gente motivata gente che c'è con la testa gente che ama il proprio lavoro e le mie situazioni precedenti certamente non mi hanno sorriso forse ho sbagliato scelte in passato ho comunque avuto sempre a disposizione dei gruppi importanti voglio ricordare solamente che a Foggia con otto punti di penalizzazione il Foggia si era salvato ampiamente ma no lo sappiamo mister questo lo sappiamo abbiamo pagato il pregresso come ho pagato il pregresso a Vercelli che sono stati esonerati quando la squadra poi con il successivo allenatore ha fatto cinque sconfitte consecutive quindi poi il percorso degli allenatori è segnato anche dai momenti dalla fortuna dalla sfortuna io certamente so di aver dato l'impossibile mi rammarica solamente aver perso la squadra per questo problema covid che per noi è stato devastante basta vedere oggi come un gara ha giocato dopo 20 giorni di letto si è allenato gli ultimi due giorni e ha fatto questa partita ma provare a mettere giù una formazione delle ultime è stato complicato quindi il colpo no le volevo chiedere le volevo chiedere quindi insomma la sintesi è questa il covid ha inferto il colpo di grazia alla sua squadra quello quello che è successo sicuramente ci ha penalizzato perché la squadra stava bene veniva dalla vittoria di Pisa da due pareggi importanti fatti a Monza e a Brescia è stata una settimana tremenda difficile perché non ci siamo potuti allenare per diversi giorni quando l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto in maniera individuale poi questo non giustifica la nuova vittoria con Lentella ma partite non ne regala nessuno e quindi era una partita che dovevamo vincere lo sapevamo mi dà tremendamente fastidio mi fa incazzare tremendamente la partita di Cosenza perché se fossimo stati questi certamente avremmo fatto un'altra partita poi certamente non è facile giocare sempre con il pensiero e l'assillo del risultato questa è una squadra che oggi ha dimostrato che magari ed è un rammarico che magari quando non ha nulla da perdere viene fuori la cattiveria agonistica viene fuori la minor responsabilità e quindi i giocatori riescono ad essere più libri quindi a livello caratteriale è una squadra che ha assolutamente mancato da un punto di vista proprio della gestione della gara dell'approccio alla gara si è fatta sopraffare troppo dalla tensione negativa la tensione nervosa ecco scusi mister l'ultimissima per quanto mi riguarda tornando al suo futuro quindi nessuna remora eventualmente arrestare alla guida del pescario io questo le volevo chiedere guardi io non ho parlato con la proprietà con il presidente quindi in questo momento non le posso dire niente e che se dovesse succedere dovesse chiamarmi la proprietà ci sederemo a tavolino e cercheremo assolutamente di programmare per vincere ma bisogna parlare fino in fondo e capire le problematiche che ci sono state quest'anno parlo chiaramente della mia gestione non entro nelle altre perché non mi appartengono e soprattutto trovare i giocatori che sposino la causa fino in fondo con grande ardore agonistico perché alla base c'è soprattutto quello che si è